Ivan Zauli, Milan. Appuntamento imprescindibile, quello del torneo SELIS per la vostra società. Come vi presentate quest'anno? Buongiorno, grazie a tutti. Ci presentiamo ad un torneo per l'ennesima volta, torneo storico internazionale di taratura elevata, sempre più internazionale tra l'altro perché abbiamo squadre rappresentative dall'Europa, dall'Asia, i giapponesi. Dall'Oceania questa? Dall'Oceania, gli amici dell'Australia che abbiamo conosciuto ieri. È un evento importantissimo, sono passati tantissimi giovani calciatori che si sono confermati poi calciatori professionisti, quindi grande evento e abbiamo voglia di far bene, onorare il club e questo splendido torneo. Allora un grande in bocca al lupo anche al Milan. Grazie, grazie a tutti voi, grazie. Grazie a tutti.